In momenti come questi non ci sono mai le parole adatte per esprimersi, ma solamente il silenzio, il rispetto e la vicinanza verso una famiglia che insieme alla sua piccola ha lottato per un anno e mezzo. Così stamani il comunicato della pallacanestro Trieste ha salutato Sveva Piattelli, la ragazzina di neanche nove anni, arresa sia al male dopo una lunga e coraggiosa lotta. Era la primavera dello scorso anno quando Trieste ne ha conosciuto la storia, grazie ad una mobilitazione partita proprio dal mondo del basket, sport che Sveva praticava. Io tifo Sveva, un hashtag che in breve tempo aveva dato vita ad una sorta di esercito della solidarietà cui hanno contribuito il mondo dello sport nazionale ed anche i triestini, che stavolta non hanno avuto pudore di mostrarsi buoni attraverso gesti semplici e quotidiani, ma anche organizzando piccoli o grandi eventi di sensibilizzazione. Un esercito che da stamattina ha riversato sui social il proprio dolore e il proprio rispetto nei confronti di una famiglia che per Sveva, a tutti quelli che nel corso di questi mesi hanno chiesto cosa fare per esserle vicino, ha sempre chiesto solo un sorriso da dedicarle. E che oggi chiude un messaggio bellissimo e struggente con una frase per certi aspetti meravigliosa. Fai tutto ciò che da troppo tempo ti è stato precluso, però poi torna da noi sotto forma di energia e regalaci un po' della tua forza e del tuo coraggio perché ne abbiamo davvero bisogno. Quando ci lascia una ragazzina è segno che qualcosa non funziona nell'ordine delle cose. Resta la sensazione che Sveva non ha perso. Chi combatte, a maggior ragione con un coraggio che non può derivargli se non da se stesso, non perde mai.